Per chi non si accontenta di avere il nuovo orologio della DNG, ma vuole il primo e per adesso unico DNG Time touchscreen, può ambire solo ad avere al polso il DNG Time Eye Contact. Una novità non solo in ordine di tempo, ma anche in fatto di orologi. La tecnologia DigiTouch, sino ad oggi comune su cellulari e lettori musicali di ultima generazione, contagia gli orologi da polso. Un semplice tocco sul vetro tattile per poter accedere a tutte le funzioni. Ora, data, allarme, crono, countdown e l'orario di ben 32 città al mondo. Tecnologia e design in un unico prodotto. Fashion e Glamour disponibili in 5 colori. Lo scopriamo qui nel suo volto migliore, quello con cassa IP Black, che ben sposa, veste comune di tutti i modelli, un morbido cinturino in gomma, anch'esso nero. DNG Time Eye Contact, il nuovo orologio della DNG, Glamour, Fashion and High Tech.